Fabrizio Fagiano, psicologo del lavoro, docente Skill Lab, oggi siamo qui con i professionisti della sicurezza in azienda, RSPP, aggiornamento, ci occupiamo della comunicazione e motivazione rispetto delle norme di sicurezza, quindi quello che facciamo è condividere principi ma soprattutto tecniche finalizzate a convincere il personale a rispettare le buone prassi in tema di sicurezza sul lavoro. Sono Olivier Barbero e partecipo a questo corso sulla comunicazione, ritengo che questo corso sia estremamente importante perché nell'era della comunicazione pensiamo tutti di essere in grado di comunicare in maniera corretta, assolutamente non è così e questo corso ci sta dimostrando che ci sono delle tecniche e ci sono delle metodologie che ci permettono di fare questo in maniera molto più mirata, ottenendo dei risultati concreti e senza dispendio di energie.